Una gara dominata, siete sempre stati avanti e avete poi allungato proprio nel momento decisivo. L'abbiamo preparata, sapevamo di aver perso un'occasione mercoledì da loro, però eravamo consapevoli che giocando in questa intensità potevamo fare bene, ci abbiamo creduto e l'abbiamo portata a casa. Grande intensità, siete stati superiori anche nel tiro da tre punti. Noi abbiamo anche giocatori che hanno queste capacità e hanno questo coraggio di prendersi la responsabilità nella partita che può fare la differenza. Quindi, bravi loro. Un altro passo avanti, adesso? Adesso vediamo la finale. Oggi e domani ci riposiamo. Martedì ricominciamo a sgobbare per preparare la finale contro Tortona. Speriamo di avere lo stesso pubblico. Grazie mille.